Allora sei pronto per domani? Carico, molla, vedrete tanta qualità Un centrale di serie D Soprattutto con il bagger Cici non viene qua Guarda che io quest'anno ricevo, quest'anno ricevo eh Da quando? Anch'io ricevo Sai che sto registrandolo? Sei consapevole che sto registrandolo Grazie Grazie. 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 Un commento a caso delle tue battute? Ragazzi sono un battitore incredibile, l'avete visto, guardatevi il video. Grazie.